L'elenco è arrivato solo nella tarda serata di ieri dal Ministero per l'Istruzione. Alla Puglia sono stati assegnati 633 degli 11.000 posti a disposizione su scala nazionale per le immissioni in ruolo dei docenti. 62 andranno alla scuola dell'infanzia, 51 alla primaria, 194 alla secondaria di primo grado, 195 in licei e istituti superiori. Inoltre verranno assunti 130 insegnanti di sostegno e un educatore a Foggia. Per i dirigenti scolastici invece le immissioni in ruolo saranno 89. È bene che finalmente siano arrivate, sia pure con ritardo, però lamentiamo i numeri che a nostro dire sono assolutamente bassi, non sono quelli che ci attendevamo. Alle immissioni in ruolo dovrebbero aggiungersi un migliaio di supplenze per coprire le cattedre pugliesi. Negli uffici scolastici provinciali si apre la corsa contro il tempo per concludere le procedure entro il 31 agosto. Non sarà facile, dice il provveditore di Bari, Mario Trifiletti, ma contiamo di farcela. Il vero problema è quello del personale tecnico amministrativo, per il quale i sindacati lamentano un deficit di 3500 emissioni in ruolo. A bloccare le procedure per emissioni in ruolo ci ha pensato una vecchia legge, quella della spending review, con un problema tecnico che trasferisce sui posti degli assistenti amministrativi docenti cosiddetti idoni che non hanno più la capacità di svolgere l'attività di insegnamento, con un'operazione aberrante perché si trasforma un docente in assistente amministrativo, ma soprattutto si sottraggono poi i posti ad una quota importante del personale ATA.